La chemioterapia e gli anticorpi monoclonali anti-CD20 insieme al trapianto di staminali rappresentano i capisaldi per la cura dell'infomino Notchkin. Nuove cure però sono in arrivo, ne parliamo con il professor Pierluigi Zinzani che abbiamo incontrato a Roma nel corso del congresso nazionale della società italiana di ematologia. Di recente anche l'immunoterapia ha fatto il suo ingresso nella terapia dell'infoma di Notchkin di quali farmaci si tratta e con quali risultati? I risultati più clattanti nell'ambito della terapia dell'infoma di Notchkin sono sicuramente gli anticorpi i checkpoint inhibitor, gli anticorpi anti-PD-1. Sono anticorpi particolari che vanno a sensibilizzare il sistema immunitario del paziente portatore di linfoma ad attivarsi e a riconoscere e a distruggere le cellule linfomatose. Quindi è un'azione intelligente, super specifica, con ottima efficacia e la tossicità ematologica ed estrematologica praticamente non esiste. I risultati veramente eclatanti perché pazienti pluritrattati con chemioterapia convenzionale, trapianto autologo hanno ottenuto delle risposte complete nel circa il 30% dei casi, durature nel tempo indipendentemente dal fatto che siano consolidate col trapianto allogenico. Nella sua relazione lei ci ha parlato dell'impiego degli anticorpi bispecifici nei linfomi non-Hodgkin. Cosa sono, come agiscono e con quale efficacia? Nell'ambito dei linfomi non-Hodgkin entrano in Sena, sono entrati di Sena in maniera prepotente gli anticorpi bispecifici. Ci sono almeno quattro diversi anticorpi bispecifici, diversi centri italiani, tra cui il mio stanno passando avanti questa ricerca nei tre clinici. Sono linfomi non-Hodgkin diffusi a grandi cellule, quindi aggressivi, o linfomi non-Hodgkin follicolari indolenti. L'anticorpo bispecifico è un anticorpo che, come dice la parola stessa, sono due anticorpi che vanno a legarsi, aiutare a sensibilizzare la ricerca della cellula linfomatosa e a distruggerla in maniera immunologica. Quindi la tossicità è veramente bassissima, con delle risposte ad oggi molto preliminari di circa il 70% dei linfomi follicolari ricaduti refrattari e circa il 50% degli linfomi diffusi a grandi cellule ricaduti refrattari. Lei ha parlato anche di un nuovo farmaco in sviluppo, un anticorpo monoclonale anti-CD47. Di cosa si tratta e cosa consente di ottenere? Tornando un attimo indietro all'immunoterapia e ai checkpoints, c'è un nuovo checkpoint inibitor macrofagico che è un anti-CD47 che associato a un anticorpo classico convenzionale come può essere il rituxi malanti-CD20 sta dando dei risultati preliminari in fase 1, fase 2 eclatanti, veramente importanti sia nelle linfomi diffuse a grandi cellule che nelle linfomi follicolari. Ricordiamoci che c'è sì la voce delle carticelle nelle linfomi diffuse a grandi cellule, come dicevamo prima, sono pochi i pazienti che possono andare incontro alle carticelle perché devono essere pazienti in buone condizioni cliniche, che devono essere pazienti soprattutto che non abbiano una malattia esplosiva perché poi c'è da aspettare un mese. Quindi la possibilità di avere questo nuovo anticorpo checkpoint inibitor macrofagico come l'anti-CD47 e gli anticorps bispecifici sono sicuramente un'arma importante dal punto di vista dell'efficacia e ridotta tossicità in tutti gli altri linfomi non-Hodgkin, sia in essi linfomi diffuse a grandi cellule che linfomi indolenti follicolari. Un'ultima parola la vorrei spendere per gli anticorpi nel mondo degli linfomi di direzione T-linfocitaria, patologia rara ma veramente non-med medical need. Gli linfomi di direzione T-linfocitaria rappresentano il 12% circa di tutti gli linfomi non-Hodgkin, ma ad oggi non abbiamo dei grandi farmaci. C'è un farmaco, un anticorpo anti-CCR4, Mogamulizuba, molto efficace, ha già avuto le registrazioni FDA, l'avrà tra pochi mesi EMA, che è efficace negli linfomi cutanei di direzione T-linfocitaria, che è una patologia rara ma è una patologia veramente difficile ad oggi da trattare con la terapia convenzionale. Che ruolo mantiene il trapianto di cellule staminali? Allora, ci sono due tipi di trapianto. Il trapianto autologo che può avere un ruolo in determinati pazienti e anche il trapianto allogeneo donatore. Sicuramente l'avvento di questi farmaci e l'avvento delle CAR T-cell soprattutto andranno a ridurre drasticamente quello che ruolo sia del trapianto autologo che del trapianto allogenico.